Ma è bellissimo Bianco, mamma mia quanto sei bello Non abbiamo stelle, mi dispiace Puoi al massimo iniziare a cavalcarlo e renderlo tuo Esatto, lo so, lo so Fa il pazzo nel mentre Ho notato che è un po' pazzo, ti calmi E ragazzi, come va? Io sono Fieriniki E io sono Steph E questo è di giochiamo a Minecraft E siamo tornati sulla Pocket Edition Visto che questa serie vi sta davvero piacendo tantissimo Quindi facciamo un piccolo recap Abbiamo dedicato lo scorso episodio Alla costruzione di un fantastico forziere segreto nella lava E se non l'avete visto guardatelo perché è stato davvero epico Abbiamo esplorato anche un pochettino la miniera Infatti abbiamo raccolto un sacco di ferro e un sacco di materiale Anche il coal, ne abbiamo davvero tanto Sì Quindi direi che sotto quel punto di vista siamo messi bene Esattamente Cosa andremo a fare in questo episodio? Allora, vi ricordate che quando siamo andati a prendere la lava Si è visto un villaggio nel deserto Ecco, partiamo da lì Andiamo ad esplorare un pochettino quel villaggio E vediamo cosa riusciamo a prenderci Anche perché se ricordo bene quel tipo di villaggio Ha delle belle coltivazioni E potremmo magari trovare Arrapparci tutto Non volevo dirlo in questo modo Magari scambiare qualcosa per qualcosa Arrapparci tutto È la cosa più bella Io non volevo dirlo Andiamo a rubare i villaggeri Ma non dite la nessuno Comunque, prima di andare al villaggio Abbiamo fatto delle piccole È vero Tra virgolette Mi ero dimenticato Modifiche al nostro villaggio in questi giorni Prima di tutto la casa Scusa, sali un attimino Fai vedere perché voglio far vedere Lo spazio che ho fatto per il letto Ho fatto una piccola stanzettina Non è il massimo Perché purtroppo lo spazio è quello che è Però io pensavo di mettere i letti qua sopra Vedi, così poi ci sono i vetri Così puoi vedere il panorama mentre dormi E anche qua purtroppo non ci sta un vetro Ma ho deciso di lasciarlo aperto Perché ricorda un pochettino Entreranno un po' di zanzare Però è bellino Ce l'hai presente tipo il finile La casa di Eli Che aveva la finestra aperta Quindi ho pensato la stessa cosa Comunque Bellissimo Spero che ci staranno i letti Perché sinceramente non ho provato secca Ma sai che forse possiamo craftarceli Davvero? Subito? Sì, 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 sì Perché io quando ero andata a prendere tanto cibo Ho ammazzato diverse pecole Non ne vado fiero Però è successo Però andava fatto Il cibo ci serviva Esatto Comunque, sì, fammi vedere se ci stanno Io ho pensato di metterli proprio sopra questo gradino Uno e due Pronta? Vada, vada Voglio vedere se ci stanno bene Sono curiosissima Allora Uno E due Aspetta, togliti che voglio vedere bene Oh, ma sono carini Allora, cosa facciamo vedere per prima? Il granaio Ok, ok Allora, questo è il mio lavoro Perché ci siamo divisi i compiti Per i nicchi ho pensato al recinto Io ho pensato al granaio Praticamente qua, come vedete Ho fatto un collegamento con l'acqua E qui ci sono quattro coltivazioni separate Come potete vedere Sono da quattro quadratini Quattro da quattro Quindi sono sedici per ogni coltivazione E qui al centro Nel prossimo episodio Molto probabilmente Costruiremo proprio un bellissimo Granaio Proprio di un mulino Granaio Sono un po' indeciso Penso più un mulino Sì, dobbiamo ancora ideare bene la costruzione Se avete qualche consiglio Ovviamente datecelo pure Perché vogliamo rendere anche proprio Il nostro villaggetto bello esteticamente Esatto Quindi un bel granaio qui Secondo me sarebbe davvero davvero perfetto Quindi qua ovviamente coltiveremo tutto Non appena rubiamo dai villagers Prendiamo in prestito Esatto E poi abbiamo fatto quest'altra parte Come vedete qua c'è una bellissima stradina Che abbiamo fatto con la pala Per di più la possiamo fare anche verso il granaio Poi non appena sarà ultimato In modo da avere collegato a tutte le zone Diciamo del nostro villaggetto Chiamiamolo così La porta è qua Praticamente vedete Ha fatto tutta la stradina molto carina Che va tutto intorno Qui abbiamo le pecore Che staranno assieme ai maiali Ho messo anche i cartelli Così non ci confondiamo Li ve li faccio leggere Sui recinti ho messo esatto dei cartelli Maialini e pecore Poi E invece Qua ci saranno le mucche Diverse da Billy Proprio specificato Mi ha chiesto di specificare Certo Infatti guarda dove Ciao Billy Ciao Billy Come puoi notare Il recinto di Billy Ha accesso solo dall'esterno Vedi che la porta è lì Perché non voleva esatto Infatti volevo farlo vedere Praticamente lui non ha nulla a che fare Con gli altri animali Qua c'è l'entrata Non voleva essere esatto Mischiato con gli altri animali Vabbè sono richieste sue E io ho cercato di ascoltarlo Il più possibile Grazie Friniki Comunque Non ci farò fare Apprezzo molto il tuo lavoro E comunque come vedi il cartello C'è scritto Sala VIP Billy Giustamente Giustamente Avrei voluto mettergli anche Un bel tappeto Ok Però Non l'abbiamo ancora craftato No ma servivano i letti prima Quindi Esatto Quindi ho detto Ho il tappeto di Billy Ho il letto nostro Credo sia un po' più importante il letto Ma ho scelto il letto nostro Comunque volevo far vedere Un'ultima cosa E poi partiamo Vieni qua Ok io me ne stavo andando Qua c'è un altro cartello Perché qui Aha C'è stato un consiglio Di un consolino Che a me è piaciuto Particolarmente È vero Ci ho chiesto di costruire Una farm di polli Quindi Non lo faremo in questo episodio Perché esploreremo prima Magari iniziamo a costruirlo A dargli Uno scheletro Qualcosina si può provare a fare Esatto Comunque sarà un pollaio Ovvero un posto Dove noi vogliamo sfruttare Gli hopper Se mi ricordo bene Si chiamano hopper Per in automatico Prendere le uova delle galline E farle depositare Nelle ceste In questo modo Ci faremo una vera E propria farm Di galline Cercando di farlo Anche esteticamente carino Proprio come se fosse Un pollaio del medioevo E quindi niente Questa sarà una delle prossime Aggiunte assieme al granaio Secondo me Potrà diventare davvero figo Abbiamo messo dei cartelli Perché così Siccome abbiamo avuto Diverse idee Non vi confondete E sapete Cosa dobbiamo costruire Esattamente in ogni zona Villager tanto era da questa parte Nella direzione della lava Allora inizia a correre Anche se consumo un po' di cibo E anche io sto correndo Ti ricordi la strada? Si Sicura? Si 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 Sono quasi sicura Che sia da questa parte Perché era molto vicina alla lava La lava era da questa parte Quindi Non dovremmo avere problemi Se ne vuoi approfittare Per ammazzare qualche animalozzo Perché non abbiamo molto cibo No grazie Ma non ho armi Ce lo dovrei fare a mani nuda È un po' complicato Ci penso io Allora un maiale è morto Mucca Dai vieni qua Allora Non dir la biglia Non sono sicura che sia questa la strada Ok Ma mi stai mollando mentre io faccio il cibo? No Sono davanti a te Sto cercando di guardare Verso che direzione dobbiamo andare Esattamente Ok Ci siamo? Si Te lo ricordi Dove era la lava Io pensavo fosse Meno male Che se la ricordava la strada E credevo di ricordarmela Meno male Guarda che bel legno qua Forse me ne prendo un pochettino Perché questo è proprio bello di legno Dai si me lo prendo Ciao Vai 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 Trovata Io ho preso 14 di legno da caccia Perché in italiano lo chiamano così Ed è bruttissimo Ah io mi sono rimesso il gioco in inglese Troppa abitudine per i blocchi Vieni vieni Dove sei finita? Ciò qui sopra Mi vedi? No Sto saltando Non ti vedo Ma dove sei finito? Allora vai verso la lava Ok ti ho trovato Ecco ti vedo Vieni vieni Capito io taglio la legna a mazzo animali E lei se ne va senza di me Esatto Così funziona Corri Ma siamo vicini al villaggio? Sì 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 Qui c'è la lava Vedi qui c'è la lava che abbiamo preso Per fare la nostra Il nostro forse del segreto E quindi qui sotto È infatti Eccolo qua Ok C'è proprio il villaggio di sabbia Allora vieni da questa parte Corri Corri velocissima Corriamo Veloci Prima che ci picchino i mob Eh sì c'è il tramonto Non vedo già più nulla io Guardi i villager che corrono dentro casa Allora qui facciamo attenzione Però non mi piace esplorarlo di notte E infatti cerchiamo un letto Dormiamo Ah no non possiamo dormire Perché non sono nostri vero? No perché non hanno i letti i villager E aspettiamo il giorno E neanche a me piace esplorarlo di notte Allora entriamo in una casetta E aspettiamo il giorno Rimarremo qua tipo dieci minutini Ad aspettare che diventa giorno Ok Ciao villager come state? Ma c'è una festa qua Salve oh ma c'è un parco Non ci avevate invitato C'è stato i nostri vicini di casa E non ci avevate Guardali come ballero Guardali Ma non stanno ballando Sì che stanno ballando C'è la musica Stanno trottereggiando Ma è una mossa di ballo quella È una mossa di ballo No 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 È una mossa da villager Oh mamma mia non mi guardate tutti male Ma ci ho fritto qualcosa da mangiare? Perché abbiamo un po' di fame Siamo anche un po' bagnati Magari un asciugamano caldo Per farci stare meglio Niente Siete un po' antipatici Continuano a ballare Ci ricorderemo di quanto siete stati antipatici con noi Da qua vedo la luna Ed è praticamente scomparsa Quindi sta per tramontare il sole Ma vi voglio far notare No 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 Per sorgere il sole Sorgere Scusami Scusami Vi voglio far notare mentre qua cosa è successo Sono raddoppiati E continuano a girare intorno Io non so bene che problemi hanno in questo villaggio So solo che meno ci restiamo meglio è E ho anche un po' di paura a rubarle sinceramente a questo punto È arrivata anche una donzella E si è raddoppiato il party Sì Con come nella realtà arrivano le ragazze Esatto Arrivano tutti gli altri È bellissimo Vabbè Lasciamoli in pace Non entriamo nei meriti delle loro Delle loro pazzie Quindi facciamo gli affari nostri Allora possiamo iniziare a uscire dalla porta Perché sinceramente guarda C'è già un po' di luce Ok ok Fammi uscire subito da questa casa Che non si respirava più Finalmente Rimanete qui dentro Mamma mia C'era troppa gente Sì Troppa 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 Allora Soprattutto fino a quando non sono ancora finiti di uscire tutti Da dove iniziamo? Perché questo Ah vuoi andare a rubare di cattive Allora Tutto a posto Tutto a posto Sta di nuovo piovendo Ma che cos'è oggi? Ma no vabbè Giornate piovose purtroppo Capitano 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 Allora ci prendiamo un po' di grano Molto gentili Però mi interessano le patate Io spero che ci sia Un carote Un carote Prendigliele Prendigliele Sì Allora che bella giornata Sta piovendo Però ci sta molto bene Grazie Allora vediamo cos'altro anno Un altro pochettino Scusa Ho rotto anche una cosa Che non era neanche pronta Che è proprio cattiveria Ok Ci siamo arraffati un bel po' di cose Secondo me può bastare così Adesso magari Scusi mucchetta Un bel po' di pelle Questa sarà utile Bello 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 Il pollo Ha capito le mie intenzioni È sceso tantissime in basso Non ci voglia di scendere Torniamo a casa Torniamo a casa Torniamo a casa Magari se uno li lava Potevamo anche prendercelo E in effetti Portarci un secchiello Però vabbè Dato che eravamo di passaggio Avremmo potuto Oh che bellino un laginello Ciao Facciamo le due più vicine Così sembra che sia tutto coltivato E le due in fondo Le lasciamo ancora vuote Ok Che poi non so se hanno già messo le barbabiettole Sono molto curioso di questa cosa Non lo so Mi interessa saperlo Allora vieni qua e decidiamo come gestire il tutto Lì il grano Qua le carotine Ok Allora vengo a mettere le carotine che ho anche io O ti bastano? No no Mi bastano Mi bastano Quindi quelle le teniamo per gli animali E anche per mangiarcele Perché comunque sono buone Io ho cinque semini normali Quindi Ok Inizio a mettere quei cinque Guardate qua Fate le carotine Cioè che bellino Guarda che ho fatto un bel lavoro Mi piace davvero No 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 è davvero carino È semplice ma allo stesso tempo È molto carino esteticamente Davvero davvero carino Sono molto soddisfatta Sì 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 Allora metto tutti i semini E diventa ancora più bellino Poi quando sono proprio pronti È ancora ancora più bello Quella è la cosa più importante Certo certo È la sera la cosa La cosa migliore Guarda come fa già un bel effetto Sì È già molto molto più carino Ha più senso Perché vuoto era un po' triste Invece così capito È già molto 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 più carino Sì 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 Ok Allora io ho delle carote Dei maialini qui in zona Mi ricordo che ci sono Perché sarebbe carino Iniziare a prenderne qualcuno No Sì assolutamente sì Vediamo un pochettino Ma c'è un cavallo bianco Che bello L'ho visto Il cavallo bianco di Napoleone Ma è bellissimo bianco Mamma mia quanto sei bello Non abbiamo stelle Mi dispiace Ciao Puoi al massimo Iniziare a cavacarlo E renderlo tuo Esatto Lo so lo so E fa il pazzo nel mentre Eh ho notato Che è un po' pazzo Ti calmi Ma non abbiamo una stella Ogni tanto ti butta giù Continua a salirci Quando ti fai cuoricini Lei ha domesticato E a quel punto ti ci fai seguire Forse con una carota Ti segue E lo metti almeno Dentro del cinto Poi quando Troveremo le selle Finalmente diventerà tuo Ma quanto ci vorrà Per cavallare carlo Continua all'infinito È perché è un cavallo paccio Capito È selvatico È tanto bello È tanto bello quanto pazzo Guarda Assolutamente sì Vai continua Continua a buttarmi No Scusami 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 Guarda una bella carota Guarda che bella Guarda che bella Non l'hai neanche presa La stai già picchiando Perché il tasto ride È minuscolo qui sotto Capito E quindi è difficilissimo È difficilissimo Il mio cavallo Non verrà mai picchato Come il tuo Ma guarda no Fidati che Dare colpi anche tu Per sbaglio No no Non succederà mai proprio Eccolo Mi ha fatto i cuori Mi ha fatto i cuori Ora vedi Ora resta fermo E quindi posso andare in giro? No Perché non hai la sella Ah giusto Adesso se tu scendi E come scendo? Dovresti avere il tasto Prova a mettere la carota E guarda se ti segue C'è l'ho la carota Vieni Ok Vai nel recinto Vieni nel recinto Vieni 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 Allora aprimi le polo Che carino che è Oh mio dio Sei troppo bello Aspetta aspetta Oh mamma mia Quanto scibellino Lo mettiamo in quello delle mucche Sinceramente Sì sì Allora fammi capire dove devo entrare Qua Vieni mi stai seguendo Oh mamma mia Mi sono girato E c'era la sua faccia gigante Davanti allo schermo Ti ho chiusa lì per sempre Però almeno ce l'hai fatta Mamma mia Quanto c'è voluto Eh Adesso sarei impossibile Farla entrare in questo recinto Guarda io te lo dico Provaci Sarà davvero Dov'è l'entrata? L'hai superata Era anche aperta Scusami non la vedo Sono di spalle Pensa se non la vedi tu Come fa a vedere il cavallino Poverino Perché lui è un po' ritardato Cioè scusa Ti devi muovere Vieni Vieni Dai che c'è una bella carotina Lascia perdere dai Voglio fare anche tutto il cortile con le foglie Che secondo me sarà essenziale Quindi sarà poi sicuramente modificato Magari facciamo anche una bella fontana Non lo so Nei commenti ovviamente Dateci un sacco di suggerimenti a livello estetico Perché ci piace Focalizzare questa serie Tanto in survival Quanto appunto nel fare Una bella roba estetica Sì anche perché Oh ma questi sono belli grandi Comunque ragazzi Ci fermiamo così per questo episodio Quindi prossimo episodio Cerchiamo di fare Granaio trattino un mulino Perché sarà più un mulino Che un granaio a livello estetico E l'allevamento per i polli Inoltre Se ci date qualche suggerimento Magari lavoriamo un pochettino Anche sul giardino Quindi il prossimo episodio Lo facciamo un pochettino Tutto basato sull'estetica All'episodio dopo Invece cercheremo Di iniziare a trovare qualche diamante Perché sinceramente Assolutamente Sì è anche ora Di iniziare a muoverci In quel senso Esatto Bisogna iniziare a trovare Dei bei materiali Per iniziare a fare le cose Un pochettino più su serio Che qua abbiamo gente da ammazzare Assolutamente sì Mi sembra una cosa giusta Bene che se il video è uscito così Lasciateci un bel like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare Il video di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao e alla prossima Ciao 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 ciao